La giornata del diabete viene celebrata in tutto il mondo il 14 novembre di ogni anno ed è stata istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il suo scopo è quello di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sul diabete, una patologia grave e diffusa che può essere prevenuta e curata grazie all'adozione di un corretto stile di vita o con semplici interventi farmacologici. Ogni anno la giornata ha un tema, quello di quest'anno è la famiglia e dove in questo le associazioni di pazienti svolgono un imprescindibile ruolo di cerniera tra chi è malato e le strutture sanitarie. Il ruolo dell'associazione è quello di informare la cittadinanza, quindi la popolazione e di tutelare i diritti delle persone con diabete. Recentemente avete presentato anche un manifesto importante, perché e che cosa contiene? Sì, questo manifesto che lo abbiamo fatto a livello regionale di tutte le associazioni di tutelare dei diabetici vuole rappresentare quelli che sono i bisogni e le criticità del sistema diabetologico regionale. Nelle Marche sono circa 70.000 i diabetici censiti e si stima che almeno 15.000 persone lo siano però senza sapere di esserlo. Ecco perché si organizzano ogni anno open day diabetologici nei centri specializzati dove si può effettuare uno screening gratuito, come avverrà a Fano il lunedì prossimo 11 novembre. Sono sempre più importanti questi programmi di screening per riconoscere anche casi misconosciuti che in Italia sembrerebbero essere circa un milione per le persone diabetiche che non sanno di avere la malattia. Sì, noi a Fano abbiamo organizzato per lunedì mattina dalle 9 alle 13 l'accesso è libero alla popolazione. Chi vuole verrà sottoposto sia a un test per valutare il profilo di rischio, il peso, la pressione, la circonferenza vita, la valutazione dell'indice di massa corporea e poi avrà dei consigli per la prevenzione che è veramente l'arma vincente per questa lotta alla patologia diabetica. Quest'anno il tema è duplice, abbiamo sia la famiglia sia la parodontite. Perché? Perché la famiglia, il diabete è una malattia sistemica che ricopre non soltanto la persona nei vari organi apparati ma coinvolge ovviamente anche la famiglia che in prima persona si deve interessare per il paziente, appunto il familiare affetto. Mentre il tema appunto della parodontite è una complicanza nuova in un certo senso, non è la classica complicanze croniche dei piedi o degli occhi o del cuore o dei reni. È una patologia che può colpire appunto il cavo orale che può portare alla perdita appunto dei denti perché mina la salute dell'osso a livello gengivale.